A Salerno i controlli sui prezzi dei carburanti non si sono mai fermati. Il comando provinciale di Salerno delle Fiamme Gialle conferma di essere al lavoro per tenere sotto controllo i fenomeni speculativi legati ai prezzi dei carburanti dopo anche l'allarme lanciato dal Codacons, l'associazione che rappresenta e difende i consumatori e che ha rivolto a 104 procure l'invito ad indagare chiedendo invece ai consumatori di boicottare gli impianti più costosi. A Salerno in verità il fenomeno sembra restare al momento sotto una soglia marginale. Gli incrementi dove ci sono stati sono nella media di quelli legati allo stop degli sconti sulle accise. Una media di un prezzo che si aggira su 1,8 euro al litro per il fai-da-te, di poco più di 2 euro per il servito, se si prezzi soltanto con piccoli rialzi anche agli impianti situati in tangenziale. In ogni caso fonti del MEF confermano che il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha già dato mandato alla Guardia di Finanza di continuare a monitorare la situazione e che la prossima settimana verranno resi noti i risultati dei controlli effettuati. Gli accertamenti sono stati affidati ai nuclei di polizia economico e finanziaria.